Una buonissima serata a tutti voi, ben ritrovati come sempre puntuali alle 19 per iniziare un nuovo appuntamento della sera insieme. Ma prima di conoscere l'ospite, vi ricordo, lo faccio sempre, quindi anche questa sera, che potete restare facilmente in contatto con la nostra redazione semplicemente inviando una mail al nostro indirizzo di posta che è angolichiocciolaespansionetv.it Allora, è davvero arrivato il momento di andare a salutare la nostra ospite che torna, un gradito ritorno. Sono molto felice di avere nuovamente qui Gaia Polloni. Ciao Gaia, ben ritrovata davvero. Tu sei psicoterapeuta e sessuologa, quindi grazie per essere di nuovo qui con noi. Grazie a voi. Siamo davvero ormai alle porte dell'estate e con te vorremmo affrontare un argomento di fatto delicato, cioè l'estate a volte porta un po' più di leggerezza in generale, quindi anche nella sfera degli affetti, della sessualità e dell'approccio comunque con gli altri, forse anche in questo caso la leggerezza a volte la fa da padrona, ma possono esserci dei rischi e quindi cerchiamo di focalizzarli e soprattutto di dare dei consigli. Con l'arrivo dell'estate, come sai, la sessualità, soprattutto tra i giovani e i giovanissimi, aumenta in maniera esponenziale. Pensiamo che il 50% dei giovani fa l'amore per la prima volta proprio durante l'estate. E questo perché? Perché probabilmente andando in vacanza ci sono più possibilità di conoscere nuove persone, si è più lontano dal gruppo di riferimento, dai compagni di classe, quindi dal giudizio degli altri, ci si sente forse più liberi, meno giudicati, si fa più uso di droghe e alcol e quindi si è più disinibiti nei comportamenti, ecco perché aumenta la sessualità, aumentano i rapporti occasionali e anche non protetti. Queste sono condizioni di fatto, possiamo definirle di rischio perché ci mettono in una condizione magari di reagire in maniera diversa rispetto a quello che magari sceglieremo di fare durante il resto dell'anno. Quindi detto questo, le condizioni psicologiche insomma che ci pongono a questa leggerezza sono quelle che hai elencato e ce ne sono anche altre. Sono sicuramente queste, poi c'è un preconcetto, pregiudizi legati all'uso del preservativo, quindi tanti ragazzi soprattutto sotto i 25 anni, non dimentichiamoci che la fascia di età più esposta alle malattie sessualmente trasmissibili è tra i 20 e i 24 anni seguita dalla fascia dei 15-19 e questo perché probabilmente, io dico sempre, i nostri giovani sono cresciuti a pane pornografia, quindi non sono abituati, avendo come modello di riferimento la pornografia, non sono abituati ad usare precauzioni perché nei film porno non usano precauzioni. Quindi un po' hanno questo modello di riferimento, un po' forse hanno questa idea che usare il preservativo significhi una sessualità diversa, con sensazioni diminuite, piuttosto che il preservativo interrompe un momento magico. Insomma ci sono diversi preconcetti per cui i giovani usano molto di meno il preservativo. Invece Gaia, affido a te, insomma, questo compito, seppur delicato, ma di fatto tu sei l'esperta in questo senso, trasmettiamo invece a riparo delle cose che tu ben hai elencato, quanto sia invece importante proteggersi, soprattutto laddove appunto i rapporti sono occasionali, ci mancherebbe, può capitare, quando si è molto giovani e quindi ricordiamo quanto sia importante farlo. È importantissimo e questo perché il preservativo, oltre a proteggerci da gravidanze indesiderate, e anche qui ricordo che le ragazze giovani almeno una su quattro, almeno una volta nella vita, ricorre alla pillola del giorno dopo, ma le precauzioni come il preservativo è l'unico metodo contraccettivo che ci protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili. E mi piacerebbe magari aggiungere che per malattie sessualmente trasmissibili noi non pensiamo soltanto all'HIV, o quelle virali, quelle grandi, l'HIV e l'epatite, ma ha un sacco di altre malattie di cui nessuno parla, come per esempio la sifilide, che è in aumento, ci sono stati tantissimi casi di sifilide, la gonorrea, la clamidia, che è una delle maggiori cause di infertilità nelle donne, nessuno ne parla. Il papillomavirus, ogni tanto ne sentiamo parlare, ma non dimentichiamoci che è correlato sia ai condilomi, che sono fastidiosi sia da vedere ma anche da rimuovere, ma è correlato anche ad alcuni tipi di cancro. Quindi il preservativo ci protegge non solo da gravidanze indesiderate, dalle malattie più note, ma anche malattie di cui si parla di meno, ma altrettanto nocive, pericolose per la salute, sia maschile che femminile. Quindi ci vuole davvero molta attenzione, ma direi anche molta informazione, perché in realtà tu hai sottolineato molto bene come i giovani siano cresciuti con delle immagini di riferimento, che tu appunto hai citato con molta chiarezza, e quindi da lì dovrebbero essere discostati, non solo, mi permetto di dire, per proteggersi da questi rischi, ma anche probabilmente per poter vivere una vita di relazione di coppia effettivamente più serena, più concreta, fatta di sentimenti e non di altro. Sicuramente, quindi proteggere se stessi, proteggere l'altro e non considerare soltanto il piano più leggero di sensazioni, il piano fisico, ma spostarsi anche sul piano emotivo. Ecco, magari un messaggio anche per le ragazze, mi permetto di dire, che a volte si sentono di non... si vergognano ad avere il preservativo con sé, io dico portatelo, proteggetevi, perché è il vostro corpo che andate a proteggere in primis, quindi non abbiate vergogna di apparire come quella facile, perché ha il preservativo con sé, ma assolutamente è un vostro diritto proteggervi. Quindi psicologicamente mi pare di comprendere che le variabili siano molte e siano davvero particolarmente significative, è così? Sì, c'è appunto chi non si protegge perché ha paura di apparire quello troppo serio, quello non disinibito, c'è chi ha paura del giudizio dell'altro, sono tante le motivazioni, però appunto anche l'uso stesso di alcol e droghe rendono più disinibiti e quindi più propensi a correre il rischio. Vorrei con te, sempre perché appunto sei l'esperta in questo senso, per far arrivare ancora di più il messaggio, cioè di quanto sia importante proteggersi, le malattie che hai citato e non quelle particolarmente gravi, ma anche le altre, di fatto poi sono, come dire, immediatamente visibili, restano latenti, quali tipi di conseguenze e quando ce ne accorgiamo poi in quanto tempo riusciamo a curarle e a tornare in salute, perché anche questo è un aspetto importante che può farvi riflettere e farvi decidere, insomma, per la protezione, che è davvero molto importante. Tocchi un punto fondamentale, perché alcune di queste malattie, per esempio la clamidia, a volte è addirittura sintomatica in molte persone, quindi noi possiamo essere portatori di clamidia, che nel frattempo causa dei danni alle tube di falloppio, ci rende, diciamo, infertili in quanto donne, non lo sappiamo, quindi alcune malattie non sono direttamente visibili, è per questo che è importante proteggerci, perché non tutte le malattie danno, anzi, la maggior parte delle malattie essenzialmente trasmettive non danno dei segnali ovvi visivamente. Quindi potremmo averle contratte, ma in maniera del tutto asintomatica, e quindi tenercele senza rendercene conto, con le conseguenze importanti, cioè l'infertilità ad un certo momento, insomma, della vita di una donna e di una coppia diventa un elemento, insomma, importante, e magari non ce ne accorgiamo fino a quel punto. Esatto, molte infatti lo scoprono proprio nel momento in cui cercano un figlio, fanno finalmente per la prima volta dei tamponi cervicali e scoprono di avere una clamidia, che fino a quel tempo non sapevano nemmeno di avere, ma magari è troppo tardi. Allora, Gaia, purtroppo il tempo a nostra disposizione davvero sta per concludersi, abbiamo un minuto a disposizione, quindi quale messaggio, oltre a quello, insomma, di passare un'estate serena, vogliamo dare a chi ci sta ascoltando in questa direzione, cioè proteggiamo la nostra salute, perché davvero è un bene importante. Esatto, quindi divertitevi sicuramente, ma con coscienza, con l'idea di proteggere il proprio corpo e proteggere anche l'altro e di conseguenza anche la coppia. Quindi non voglio essere troppo rigida nel messaggio che passiamo, ma non pensiamo di poter giudicare l'altro soltanto perché ci sembra una persona pulita o a posto. Quindi proteggiamoci perché è sempre una scelta intelligente per noi e per la persona, insomma, che abbiamo di fronte. Io ringrazio Gaia Polloni, come sempre, per essere stata qui e, insomma, spero di riaverti nuovamente nel nostro salotto. Grazie davvero. Grazie a te, Dolores, grazie a voi. Grazie anche a voi, ma rimanete lì perché cambiamo argomento tra pochissimo, ma torniamo ad Angoli. Grazie a voi.